Ciao, come stai oggi? Vai al cinema più tardi? Ciao, sto bene. Sì, io vado al cinema stasera con Nick. C'è Nick? Lui è mio amico della scuola superiore, lui piace giocare al baseball. Interessante, mi piace giocare al baseball troppo. Voglio incontrare lui. Bene, lui è qui per la settimana. Come è? È molto atletico e espansivo, voglio incontrare lui. Io faccio troppo. Quando viene? All'è cinque di seda. Qual è il suo numero di telefono? Voglio vedere lui domani. Sessanta venti cinquanta quattro tre. Ah, grazie. Salve Nick, io sono un amico di Megan all'Università d'Oreland. Piacere. Tu giochi al baseball? Gioco il tutto il tempo. Sì, quanto sei bravo. Non c'è male. Tu giochi per una squadra? Sì, io gioco per la squadra della mia scuola. Tu giochi per una squadra? Sì, io gioco per una squadra professionista. Ah, ah, per quanti anni? Per cinque anni. Che studi all'Università d'Oreland? Io studio l'ingegneria. E tu? Lo studio la scienza. È ingegneria difficile? È così, così. A volte è difficile, a volte è facile. Io studio ogni giorno. Quando ti diplomi? Mi diplomo in due anni. Tu desideri giocare al baseball domani? Sono occupato a domani. Ma quando sei libero? Alle cinque di sera sopra domenica. Ci vediamo. Sono emozionato. Tu sei Nick Buoni Amici ora? Sì, mi piace lui. Siamo simili. Molto bene. Siete bravi ragazzi. Sono felice. Siete amici.